io sono come si suol dire molto felice di essere qui è la mia prima volta al circolo dei lettori sono molto felice di essere qui a parlare dell'esordio di giulia muscatelli balena che è un libro che ha il grande pregio il grande merito di fare sul serio parlavamo prima del coro che già si è un po' levato attorno a giulia nel chiederle se è tutto vero cosa c'è di vero sicuramente la protagonista del libro porta il suo nome c'è sicuramente una volontà di rivendicare dei nessi dei lacci con la realtà in qualche modo poi io credo che non sia importante appunto porsi una dimensione di di prova e di verifica i libri sono 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 interessanti perché sono dei dei congegni dei dispositivi che fanno fare delle esperienze a chi legge e queste esperienze possono essere costruite anche a partire dalla propria esperienza balena e racconta essenzialmente la storia di una bambina potremmo dire una preadolescente che appunto porta il nome di giulia che si trova a fare i conti con esperienza limite potremmo dire no quindi una notte di marzo del 2000 quindi anche in un periodo e magari poi ci torneremo che anche c'è un tema di epoca cioè quelli per chi li ha vissuti erano effettivamente anni in cui si si parlava del del millennio che stava cambiando quindi c'era questa attesa protomessianica e questa che ha poi preso la forma anche appunto per esempio della anche di rivoluzioni mediate come quella del grande fratello so che già da ci chiedere poi ci non rubarmi la domanda per favore mi hai detto che devo cominciare io allora mi sto vendicando stiamo ridendo ma questa notte di marzo appunto del 2009 marzo il papà di giulia muore il modo in cui giulia reagisce a questa perdita improvvisa che sia personale ma è una perdita poi collettiva c'è anche per le persone che le stanno attorno ha molto a che fare con la sua identità prende la forma di una trasformazione una trasformazione fisica perché giulia comincia a prendere peso prendere moltissimo peso e quindi tutto il libro è una ricognizione di questa di questa trasmutazione dolorosa fino a un certo punto ma poi si installano anche altre tonalità appunto come vedremo come quella dell'ironia del sarcasmo altre possibilità e io comincerei da chiederti questo da quanto tempo insomma covavi balena quanto quanto tempo ci hai messo cosa è successo mentre mentre lo ideavi lo scrivevi lo ripensavi e cosa ti interessava raccontare con questo libro buonasera a tutti e a tutte grazie a voi due per essere qui sono veramente contenta che siate voi due allora da quanto tempo balena è un libro che ha una storia anche editoriale molto lunga è un libro che è durato nelle sue revisioni e riscritture sette anni e che è arrivato a questa forma non solo grazie a me ma grazie all'immenso lavoro della casa editrice che che l'ha pubblicato e che insomma è qua stasera in una rappresentanza ma che insomma ci tengo a citare perché poi un autore è fatto anche del di chi lo accompagna a diventare tale che cosa è successo in quei sette anni intanto è successa una cosa importante cioè la consapevolezza che io non avrei mai potuto scrivere questa storia se non l'avessi messa in prima persona che non significa per forza dire a tutti e a tutte che 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 balena sono io anche se balena sono io ma significa poterla raccontare da un punto di vista che mi che mi riguardasse proprio da dentro dalle viscere cioè poterla attraversare senza senza fare di lei per forza un personaggio in terza poi lei è comunque un personaggio per me sentirete che io parlerò di lei e parlo sempre di lei in terza persona cioè balena è è un in questo momento è un personaggio ma quando la scrivevo io dovevo per forza usare una prima persona per essere sincera fino in fondo in questi sette anni cosa è successo è successo che che il dibattito sul femminile e sulla figura delle donne è cambiato è mutato è cresciuto e io sono cresciuta con quel dibattito ho imparato moltissime cose da da chi scriveva da chi affrontava certi temi da chi riportava a galla certe autrici e quindi anche la mia consapevolezza rispetto alla ragazzina che ero stata è cambiata e più questo dibattito proseguiva più io leggevo più conoscevo le autrici meno mi sentivo sola e più mi curavo in qualche modo e balena è arrivato assolutamente nel momento in cui ero pronta a dire tutte queste cose sovente le persone cioè sovente oddio da qualche giorno perché è uscito da qualche giorno però faccio un po' quella però insomma mi chiedono quanto sia difficile essere stata così onesta rispetto delle cose che mi riguardano in prima persona e a me sembra che non sia stato per niente complicato perché se le ho messe lì quelle cose io le ho superate o meglio quello che c'è lì io l'ho integrato l'ho capito non ho preteso che i lettori elettrici fossero miei analisti e lo capissero e l'ho fatto proprio per il tempo che è passato che sette anni fa maledivo perché non vedevo l'ora che questo libro uscisse ma non sapevo neanche che era questo libro ci è voluto moltissimo tempo per capire che doveva essere questo addirittura che doveva chiamarsi balena cioè che era lei la protagonista del libro e non tutto quello che io le avevo costruito intorno solo per non arrivare a questo livello di onestà che non è per forza un merito cioè se il libro è bello e brutto non aspetta assolutamente me a dirlo poi tendenzialmente io odio tutto quello che faccio quindi secondo me è brutto che è una grande promo però è successa la vita è successo il mondo che come dicevamo prima è andato avanti e andando avanti mi ha insegnato un sacco di cose e quindi balena è anche frutto di tutto quello che io ho letto e credo che si evinca lì dentro a partire dall'esergo iniziale sono tre ma una è Annier no e se io non avessi conosciuto in questi sette anni perché purtroppo non l'ho conosciuta prima per ignoranza mia sicuramente non sarei mai riuscita a scrivere un libro in questa forma appunto mi allaccia la tua ultima parola forma perché quando si parla di libri non spesso quando sono scritti da donne si parla spesso di contenuto e mai di forma ma di fatti insomma mi avete spento il microfono non vogliono che parli in quanto da un libro appunto che ha come protagonista una ragazza curvi che subisce un lutto di per sé non è una storia nuova come un libro di una persona che si innamora di una persona che non la vera e ricambia però io trovo che questo libro dal punto di vista formale abbia delle bellissime innovazioni come in un capitolo che si chiama Somiglianze Giulia scrive i vizi delle femmine quelli da stereotipo da barzellette dei maschi che si lamentano delle mogli che è scritto tutto attaccato e che penso sia una scelta formale che tu abbia fatto e che torna o quando tu fai questi parallelismi costanti tra la tua vita tra il tuo lutto e la televisione commerciale quindi dici che appunto tuo padre è morto l'anno del grande fratello dove probabilmente è morta anche la dignità di molti autori televisivi o quando dici che appunto non c'è una protagonista grassa possiamo dire questa parola possiamo liberarci anche questa parola poi ti dico come chiamo io balena una protagonista grassa in un film il cui la cui storyline non sia legata al suo essere grassa quindi questa cosa non esiste quindi volevo appunto che tu mi parlassi di questa di questo parallelismo che hai fatto tra i corpi e la loro rappresentazione nei media e come questo è entrato poi nella tua storia personale sì vabbè il grande fratello per scannarlo subito ne parlavamo prima con Giada il grande fratello di Daria Bignardi di Diara Bignardi con le sue camicie di seta con il inviato Marco Liorni ci siamo quella cosa scolatissime scolatissime capito adesso anche Daria si è data la letteratura finalmente assolutamente ha cambiato ha cambiato no vabbè il grande fratello per tornare su quello perché lì dentro perché io ero sconvolta da questo fatto in maniera molto egoistica tra l'altro perché il mondo si sarebbe dovuto accorgere di quello che era successo a me cioè il mondo non me lo doveva assolutamente ma anche nella mia scuola tutte le persone che mi stavano intorno fuori di quelle che mi amassero erano veramente scioccate da questi 20 ragazzi in una casa chiusi e io dentro di me continuavo a pensare ma ehi è morto mio padre cosa state facendo tutti quanti e poi sarebbe morto Tarricone anni dopo e poi sarebbe morto Tarricone da un paracadute in una morte tragica che appunto nel libro c'è perché quella morte lì per me è stata sì cioè mi ha segnato non tanto per la morte del povero Pietro Tarricone perché non conoscevo e non potrei essere ipocrita a dirlo ma perché ho pensato ah quindi capita anche a voi cioè quindi anche voi mentre state a festeggiare a fare le vostre ammucchiate a fumare le sigarette di nascosto a rompere i tavoli non so se era quello l'anno di quello che rompeva i tavoli per le sigarette non vi state tutti accorgendo Filippo Filippo io ho un grande appassionato beh un gran buono Filippo sì non vi state tutti accorgendo che io soffro e quello è il tipico atteggiamento anche forse un po' egoistico di un bambino che cioè che credo sia normale insomma che il mio psicanalista ha detto che era normale quindi a posto e e sì quindi la televisione è entrata preponderante nella mia vita anche un po' perché era l'unica compagnia che avevo al di fuori della mia famiglia perché poi come nel libro si racconta per tanti anni di amici manco a parlarne quindi non riuscivo veramente a spiegarmi per quanto riguarda la rappresentazione quella è una questione diversa nel senso che questi sono anni molto diversi ci avessi avuto io a 13 anni le storie che i ragazzi hanno oggi sarebbe stato molto meglio io non vedevo persone come me cioè non c'erano guardavo guardavo Dawson Creek e Joy era pazzesca stava con pesi io anche volevo stare con pesi ma Joy era magra e a parte che non era neanche lei che mi piaceva perché lei mi stava sul culo però vabbè insomma poi è arrivata una mamma per amica e Rory era ghiacciante ma comunque sempre magra c'era anche Paris era magra anche Paris era magra erano tutte magre e se a un certo punto capitava qualche anno dopo è capitata una protagonista più grassa eccola lì Suki San James la cuoca di una mamma per amica Suki bravissima ecco non so come è vero non so quanti voi conoscono la mamma per amica ma in mamma per amica c'è un personaggio che è Suki che è la cuoca che ovviamente è grassa perché se fai la cuoca ti mangi tutto quello che cucini per loro per gli sceneggiatori era una linea regolare e quindi che cosa succedeva che mi chiamavano Balena quindi col nome di una bestia in televisione in quello che guardavo le serie tv non c'erano c'era Italia 1 ma non c'era certamente Netflix non trovavo niente nei libri non trovavo niente e la mia risposta era sono l'unico esemplare della mia specie cioè sono l'unica al mondo a essere fatta così e perciò hanno ragione loro sono sbagliata perché se non ne vedo altre ad oggi la questione è cambiata tantissimo per certi versi per certi altri non riesco ancora tanto a citare delle narrazioni in cui la protagonista è grassa e questa cosa viene lasciata da parte ma così come non riesco a citare delle narrazioni in cui la protagonista è disabile e questa cosa viene lasciata da parte forse adesso questa serie che è uscita ora oh mio Dio non mi viene neanche il titolo fantastico bravissima giù Prisma brava grazie mi sono portata le amiche che aiutano da casa in Prisma c'è una protagonista con la disabilità e questa cosa non so se l'avete vista non viene presa tantissimo in considerazione perché se no il corpo è sempre al centro dell'intreccio cioè deve sempre essere un problema e quindi anche se lo rappresenti ma è un problema lo stai raccontando così per carità un passo in più è stato fatto però secondo me c'è ancora tantissimo lavoro da fare rispetto a questo quando io ero piccola non c'era niente c'era quello che ho citato questo appunto sulla carta sarebbe un libro legato appunto alla corporeità fisicità non conforme però poi si arriva alla fine del libro secondo me la sensazione che se ne ha è che sia un libro costruito attorno a un'ossessione comprensibile per la figura paterna oggi siamo in un periodo in cui tra le appunto i tanti motti insomma le cose che sento dire c'è questo no? c'è in qualche modo della scomparsa l'evaporazione qualcuno dice della figura paterna e in questo libro c'è un padre che effettivamente scompare ma che da quel momento in poi diventa ancora più ingombrante di quanto già forse non non lo fosse un padre che si fatica anche a risolvere in un giudizio univoco una tonalità emotiva univoca perché emergono sia dalla memoria ma anche poi dalle scoperte penso per esempio a questo romanzo segreto a un certo punto no? che viene fuori insomma dal portatile e che la madre della protagonista le impedisce di leggere c'è un tema della salute mentale di questo padre che non viene diciamo non viene poi esplicitato ma si capisce che probabilmente c'era c'era qualcosa che andava in quella direzione quindi un temperamento un andamento a picchie crolli euforie poi scomparse grandi invece momenti periodi di mutismo anche di di allontanamento ma poi anche col passare del tempo le persone attorno alla protagonista dicono cose che mettono in discussione in qualche modo anche la la sua immagine che le aveva di questo padre che era insomma un'immagine anche prevalentemente positiva anche diciamo per la questione della della perdita e quindi ecco ti volevo chiedere se per te è effettivamente così cioè se il bisogno di questo libro arriva più da lì forse che non dalla questione del del corpo io su Balean ci tengo tantissimo a dire che è un libro sul lutto più che un libro sul corpo ti ringrazio per averlo detto il corpo è la conseguenza di quel lutto e quindi sì non so se derivi da oddio allora qui è difficile perché ti vorrei dire che si scrive perché si vuole scrivere perché non si hanno dei bisogni interni ma sono tutte cavolate cioè insomma altrimenti si fa un altro mestiere sì mio padre era una figura veramente strana di cui anche le persone che sono in sala questa sera qualcuno lo conosceva potremmo tutti metterci qua e darti mille versioni diverse io probabilmente sono quella che ha la sua più negativa che non significa mancanza d'amore io lo amo e sono una figlia che ogni giorno si sveglia e pensa alla mancanza di suo padre dopo 22 anni cioè mi sono persino rotta le scatole da sola però è una mancanza adesso pacificata esiste c'è e vive in me un vuoto con il quale convivo però sì diciamo che tornando al tema della salute mentale io non ho mai voluto esplicitare quale fosse la patologia per due ragioni collegate la prima perché chi lo sa erano anni anche quelli come succede altri temi di balena in cui non si parlava di queste cose chi lo sa cosa avesse quelli sono i miei ricordi e io lo ricordo così ad oggi mettendo insieme pezzi potrei benissimo dire che cosa aveva mio padre era poi curato per una depressione probabilmente non era quella la questione quasi sicuramente non era quella e quindi la seconda ragione per cui non c'è anche una questione di onestà cioè non avrei mai potuto attribuirgli una patologia senza sapere realmente quale fosse e senza neanche avere le capacità di farlo quindi avrei fatto un errore e un torto sia a chi avrebbe letto il libro sia a mio padre sì cioè lui è molto presente in questo libro perché io quello che volevo raccontare era come si convive con i ricordi di chi non c'è più cioè non tanto con col fatto che a un certo punto ti capita un lutto col fatto che quando quella persona era in vita era una persona che tu non riuscivi a decifrare e a un certo punto questa persona scompare e tu non hai più possibilità di chiedergli perché e quindi cresci a un certo punto io mi sono accorta della morte di mio padre tardissimo credo di aver avuto vent'anni quando ho capito che era morto per circa una decina d'anni penso abbastanza sicuro di aver fatto finta nel mio cervello aver messo insieme cose di di averlo un po' negato e poi mi ricordo nettamente un giorno ma casuale proprio andavo all'università mi sono sbagliata ho detto oh cavolo è successo forse anche per questo che io ho questo lutto ancora molto vivo perché per me è molto fresco perché ci sto facendo i conti ora ma io ora non faccio i conti con quel lutto faccio i conti con lui in vita faccio i conti con quella rabbia di non poterli chiedere perché quella volta ti sei comportato così o anche solo perché mi hai detto che dovevo scrivere i dettati così io poi da grande volevo fare l'autorice ed è una strada difficilissima ci sono impazzita presto e non mi ha insegnato a contare che non so manco fare le tabelline e tutto questo insieme di cose era quello che io volevo mettere lì dentro cioè come come si cresce con quella cosa lì non solo come si inizia ma dove poi si arriva chissà se ci sono riuscita però insomma l'intento era quello allora mi allaccio a questa lettura freudiana anzi recalcatiana grazie per aver detto dell'evaporazione del padre di Jacques Lacan esatto bravissima vedi perché non ho l'effetto nero ma spero di essere ugualmente credibile e no vabbè io ho trovato molto Heidegger nel tuo libro non ho bevuto troppo vino però perché nella filosofia di Heidegger c'è questo collegamento tra la morte e l'accesso al linguaggio perché Heidegger scrive che la morte possibilizza le possibilità e tu almeno da quello che mi è sembrato di capire nel libro il tuo io narrante capisce la forza che le parole hanno nel restituirti tuo padre quando appunto tu dopo il funerale leggi quello che hai scritto su di lui però nessuno ti loda nessuno ti fa i complimenti e questa cosa mi ha fatto venire molto la pelle d'oca perché mi ha comunato molto alla mia esperienza perché anche io sono cresciuta senza mio padre e il mio accesso alla scrittura creativa è stato che mi inventavo i padri nei temi quindi un giorno avevo il padre architetto un giorno avevo il padre matematico e volevo sapere se anche per te l'accesso alla scrittura creativa in qualche modo è stato catalizzato dal lutto cioè lì che hai capito il potere sia salvifico ma anche traumatizzante della scrittura allora poi parliamo di Amica Chips grazie questa era la mia unica domanda seria no bella però anche perché Lacan è un mio grande sono una grande fan vado a tutti i suoi concerti allora sicuramente vabbè mio papà era un giornalista quindi la scrittura in casa nostra è sempre stato un tema abbastanza vissuto cioè io avevo quest'idea molto romantica della scrittura di notte stai sveglio a scrivere in realtà soffriva di insonnia soffriva come un cane proprio lui come essere umano quindi non c'era niente di romantico in questo e e quindi vabbè questa cosa l'ho respirata sono stata molto fortunata in questo perché non capita a tutti e anzi in questo sono stata anche agevolata nella mia vita perché è una grande fortuna crescere tra i libri e tra chi ti insegna la bellezza delle storie mio padre come mia madre d'altra parte che poi ha continuato in perterri devo dire che sì cioè appena lui è morto io ho provato come c'è scritto nel libro a scrivere una cosa per lui che poi in realtà ha letto mia zia che era molto brutta me la ricordo ancora oggi come scrivo nel libro sai che non ci avevo mai pensato ma potrebbe essere così cercavo un modo di dire le cose cioè con le parole non riuscivo non mi sembrava di avere nessuno disposto ad ascoltarmi io ho avuto molto amore intorno anche molto ascolto non mi sembrava che però vorreste ad ascoltare le cose che io avevo da dire a scuola era peggio e quindi zero poi non è che mi ricordo questa cosa assurda a preso dell'ascolto delle parole che a un certo punto riesco a convincere delle mie compagne e delle medie a venire a casa mia a vedere un film forse mia madre si ricorda questa cosa obbligiosa che ho fatto per una serata perché come scrivo nel libro nonostante loro fossero cruderi con me io niente ci andavo dietro in perterre proprio volevo le convinco e mi dicono quale film guardiamo io dico parla con lei non so se voi conoscete parla con lei mia madre si sta sganasciando avevi solo da bloccarmi quel giorno parla con lei e il film è un film che parla di Almodovar la cui trama è sostanzialmente questa c'è una ragazza alla coneia esatto grazie esatto c'è una ragazza in coma e c'è questo infermiere che si infatti di lei fino ad arrivare a di fatto a stuprarla perché lei è in coma e quindi ha tutti gli effetti che ben modo di trovarti delle amiche Giulia si ti va di venire a vedere un film da me dopo The Ring esatto ma magari capito The Ring magari era un horror no io scelgo parla con lei adesso tra l'altro mentre lo sto raccontando mi dico perché non l'ho messo nel libro però vabbè chissà e ovviamente loro vengono ed è un disastro come giusto che sia perché sono delle ragazzine di 12 anni e quel film è terribile fortissimo non so neanche perché a me piacesse così tanto forse grazie alla call lo posso immaginare e quindi loro dopo poco tempo dal film mi guardano come se fosse la scirocata che di fatto ero e questa serata finisce malissimo pensandoci adesso a 33 anni mi dico che forse quello era il mio modo attraverso una storia di poter raccontare come mi sentivo sbagliato indubbiamente perché poi quella era una storia diversissima della mia però volevo far vedere forse come si sta quando sei impossibilitato a parlare a comunicare quando c'è qualcuno che ami di quasi morto poi vabbè lo stupro non so cosa c'entrasse però se no magari avevi semplicemente un buon gusto cinematografico si a 33 anni e questo ovviamente mi ha inimicato ancora di più tutte le mie compagne però forse mi fa pensare che le storie sono state il mezzo attraverso il quale io ho cercato di arrivare agli altri a un certo punto ho pensato che potessero essere quelle che scrivevo io ma per tanti anni come dico anche nel libro non ho mai pensato che questa cosa potesse accadere davvero a me cioè che io potessi davvero essere in grado di farlo e quindi è iniziata la parte forse un po' più difficile questo libro si chiama Balena e ci sono molti animali effettivamente quindi oltre quello che dà il titolo che è quello in cui in qualche modo animale animale la specie in cui la protagonista si trasforma però insomma cani canie scimmie orche quindi c'è questo poi anche leggendo delle tue interviste anche del passato so che che è un tema che che ha tirato la tua attenzione questo in qualche modo del rapporto con gli animali ma soprattutto possiamo dire un po' di questa triangolazione tra linguaggio animali e potere ho anche trovato un'intervista dove dicevi appunto cioè che stavi pensando ad un libro su questo tema proprio quindi uno ti chiedo se è questo il libro su quel tema o se c'è un'altra se c'è qualcosa in cantiero in qualche modo e poi appunto quali sono le idee che hai che hai raccolto nel corso del tempo su questo tema a cui tra l'altro io tengo particolarmente è vero perché hai scritto una cosa bellissima tu qualche giorno fa sugli animali allora sì il libro era questo le prime versioni di Balena erano un immenso zoo in cui si analizzavano tutte le maniere che gli esseri umani hanno di apostrofare gli altri attraverso il genere femminile degli animali che è un grande torto per gli animali oltre che per le persone ma che dico cioè so che fa sorridere però lo dico con estrema sincerità cioè non vedo perché essere una vacca debba essere un insulto è qualcosa che proprio lo trovo sbagliato anche per l'animale in sé è un tema che mi interessa tantissimo e che ho analizzato tanto per scrivere Balena anche sulle balene sulle orche come scrivo nel libro le orche che hanno questa cosa bellissima ad essere sono matriarcali hanno come scrivo nel libro cioè loro persino la nonna cura i nipoti si prende cura di tutti è una cosa stupenda come come assetto di un'intera specie quello che mi interessava di più è quello che dicevi tu cioè l'assenza di un linguaggio come noi lo intendiamo ovviamente perché loro tra di loro comunicano perché per molto tempo con estrema presunzione mi sono detta però loro non possono dire a noi come stanno quindi che vita infernale fanno cioè li obblighiamo quelli domestici ad esempio li obblighiamo nelle nostre case siamo convinti ci amino noi siamo convinti di dar loro tutto quello che vogliono ma chi lo sa cioè io mi interrogo spesso di questo rispetto al mio cane o ai cani degli amici e della famiglia che incontro cioè mi domando veramente come possano essere felici come noi possiamo visto che ci siamo arrogati questo diritto di far dipendere le loro vite dalle nostre farli essere felici e quello che ho imparato in realtà è di peccare meno di presunzione su questo tema nel senso che loro hanno un loro linguaggio e riescono a comunicarci quando stanno bene quando stanno male e di scendere a patti anche con l'egoismo dell'essere umano che è quello che vuole un bel cane un bel gatto un bel crescente un bel pesce in casa e che sì certamente fa di tutto per amarlo ma che sta compiendo un atto di egoismo estremo perché se fossimo delle persone meravigliose prenderemo tutti questi bellissimi animali li metteremo in dei posti in cui è giusto che stiano e non approfitteremo dell'amore rispetto invece al linguaggio sì torno a quello che dicevo prima cioè questa cosa di balena è mia perché è stata mia e perché a me hanno chiamato così per la scarsa originalità delle adolescenti torinesi dal 2003 però oggi è frequentissima cioè voi non avete idea in quest'ultimo anno perché ci facevo molta attenzione quante volte ho sentito in un film per strada la gente dire sì vabbè ma quella è una balena così come quante volte io pecco e quando me la prendo con una persona dico madonna che cagna e lo dico e poi subito dopo penso Giulia cosa stai facendo fermati chiedi scusa anche mentalmente per averlo detto mentalmente a quella persona perché non sappiamo più come insultare le persone non è che ci viene in mente di fermarci nel farlo cioè ok abbiamo finito tutte le maniere in cui le chiamiamo no noi continuiamo imperterriti a cercare nuovi modi e questo è devastante però io in questo pecco moltissimo e quindi non posso fare insomma come dire accusare nessuno perché io stessa lo faccio quello che sono riuscita a fare in questi anni in cui ho lavorato molto su me stessa anche sul tipo di persona che ero diventata verso gli altri è chiedere scusa cioè un secondo dopo fermarmi e dire ho sbagliato che non è sufficiente perché non è che bisogna chiedere scusa però provare a rifletterci però lo faccio ancora sbaglio ancora bene nel momento che tutti stavamo aspettando parliamo delle amica chips e no insieme appunto agli animali sono molto belle le descrizioni che fai del cibo spazzatura anche questa è una cosa che non si può più fare ti capisco benissimo perché anche sono una grande fan e a me ha molto commosso la descrizione delle amica chips trovo un grande pezzo di letteratura che leggerei grazie le amica chips cioè così è come io vorrei che un uomo parlasse di me come tu hai parlato delle amica chips le amica chips sono la mia marca di patatine preferita già per la confezione sottile e trasparente che mostra l'unto ed ha un'anteprima visiva dell'intensità del sapore migliaia di briciole intrise d'olio provocano sin dagli scaffali del supermercato una colina immediata e morbosa compriamo il formato famiglia da mezzo chilo forse perché ammettere anche davanti al consumismo che noi non siamo più una vera famiglia sarebbe davvero troppo e allora ci concediamo di mentire almeno alla cassiera del Carrefour bellissimo io ho adorato bella la amica chips sponsor se qualcuno conosce no e poi devo dire che ho trovato bello il fatto che appunto tu non avessi amiche ma parlassi cioè ci avevo pensato ho detto questa cagata gliela devi dire avevi un'amica era amica chips e volevo sapere se questa cosa di usare il cibo in maniera appunto quasi filosofica è stata programmatica nella scrittura del libro perché tornano queste riflessioni idiosincratiche o ti è venuta spontanea e poi volevo sapere se mangi ancora l'amica chips o se adesso basta solo patatine bianche quelle di farro ok allora in realtà se fossi stata molto meno pigra il progetto per questa sera è che sulle vostre serie ci sarebbe stato un pacchetto di amica chips per ognuno e perché non le prese perché costano 1,89 euro al pacco cioè l'editoria non è che sia proprio in questo momento quindi era un po' difficile allora ne ho un pacchetto a casa che mi hanno mandato delle mie care amiche amiche vere o amiche chips no no adesso delle amiche vere credo non lo so se qualcuno vuole smentire in questo momento di farlo no allora intanto sulle amiche no grazie perché per me le amiche chips sono importantissime cioè un altro titolo che viene da tua balena sarebbe stato amiche chips le amiche chips oggi hanno fatto un rebranding ma quelle che c'erano nei primi anni del 2000 erano delle patatine che venivano vendute cioè a basso costo e perché appunto i packaging non investevano tanto erano tutte trasparenti e si vedevano da fuori oggi hanno fatto un rebranding e infatti su alcune c'è scritto quella trasparente credo che mi debbano qualcosa allusioni sessuali no quella trasparente ah non ce l'avevo pensato sono una pervertita le patatine le patatine allora sì mangio ancora le amiche chips che sono ancora la mia marca di patatine preferita perché vi invito a provarle tutte sono assolutamente le più buone tra l'altro io sono un'esperta mondiale di patatine grazie a mia zia che mi ha insegnato questa cosa quando ero piccola per alcuni anni fuori dagli scherzi sono state il mio cibo mi hanno fatto paura era quello che io mangiavo quando proprio tutto era un disastro e allora patatine devo dire che ancora oggi quando quando ho dei momenti molto no dico ok stasera non c'è non mangio le patatine e quello è un po' il mio allarme mentale penso ok c'è qualcosa che non sta andando bene non per grasso non per niente ma perché tendenzialmente non si cena con le patatine domani hai un appuntamento col tuo psichiatra però appunto questi anni di lavoro su quello che è successo e anche sul disturbo alimentare che ho avuto perché di fatto possiamo chiamarlo così mi hanno portato a mangiare le patatine in maniera pacificata controllo quelle che mangio non ne mangio quante ne vorrei perché realmente ne mangerai tutti i giorni ma sì sono ancora loro rispetto alle descrizioni del cibo non so se volessi essere filosofica ti ringrazio per averlo detto non so se volessi esserlo volevo certamente anche lì provare a raccontare che cosa c'era oltre al cibo cioè provare a dire ok tu vedi un pacchetto di patatine io vedo salvezza io vedo poter staccare il cervello devo dire che i due anni di covid mi hanno un po' riportato in quel loop perché in quei due anni in cui era insomma per chiunque di noi tutta una tragedia intorno tra l'altro appunto due anni di covid capitati il giorno esatto in cui mio padre è morto quindi a vent'anni esatti dal suo anniversario dove nella mia famiglia è avvenuto un altro lutto importante perché noi siamo precisi non ci facciamo mancare niente il cibo è tornato un po' essere con la roba lì cioè era tutto ciò che noi avevamo in casa cioè l'unica di nuovo l'unico nostro modo di di essere una famiglia felice e io volevo poter raccontare quello no però io dico filosofico perché quella riflessione che fai tu sul formato famiglia alla fine è un qualcosa per fare sentire in colpa le persone cioè no è davvero un qualcosa di molto inconscio però un trappanamento di marketing come solo solo per te capito sono cioè questa questa cosa che comunque il marketing fa di mettere in relazione il cibo alla tua situazione emotiva e che poi tu hai fagocitato nella tua scrittura sono d'accordissimo così come il cibo per i single cioè la porzione solo per me ma perché o viva la mamma ad esempio terribile no ovviamente sono delle ricerche io ho lavorato per gli anni in pubblicità quindi capisco sono delle ricerche hai inventato tu tutto sì l'ho fatto io no scherzo però ho scoperto che infatti ho smesso perché stavo vendendo l'anima al diavolo stavo veramente male effettivamente il formato famiglia è terribile e poi oltretutto che cos'è una famiglia che forse oggi con il nuovo governo è una domanda da non fare assolutamente però ok formato famiglia quindi quanti dobbiamo essere chi dobbiamo essere per fare quella famiglia per me è una persona e il suo cane sono una famiglia però per le amiche chips no perché al cane le patatine fanno male non è detto io volevo introdurre uno dei temi insomma che mi ha interessato di più di questo libro che è la questione dei social e di come la riflessione sull'identità viene è si è sviluppata sui social tra luci ombre potenzialità e invece anche insomma forse aspetti controversi no perché gli aspetti controversi vengono messi in luce volevo leggere uno dei passaggi che mi ero segnato che mi sono piaciuti di più oggi provo la stessa sensazione se vedo certi corpi celebrati su instagram siamo ancora maldestri quando parliamo quando parliamo di corpi confondiamo la libera espressione del sé con il dolore e viceversa richiediamo a gran voce la libertà di mostrare il culo anche se non entra nel formato quadrato della foto ma non rivendichiamo con altrettanta frequenza il diritto di avere un medico di base che sappia individuare e quando necessario curare l'obesità o di un'istruzione scolastica che costruisca i presupposti per una cultura finalmente consapevole e informata della pluralità dei corpi e quindi scevra da giudizi pensiamo di cambiare noi stessi e gli altri con un post e ci appendiamo alla coccarda dei like che per un secondo ci fa dimenticare quanto siamo infelici non ci fermiamo abbastanza a riflettere sulle ragioni per cui alcuni di noi quando stanno male decidono di abbuffarsi o digiunare e così il cibo rimane un diletto così le persone continuano a pensare che chi è in grave sovrappeso sia semplicemente goloso non prestiamo attenzione alla singolarità di ciascuna storia ma corriamo accaniti alla ricerca del messaggio messaggio vogliamo a tutti i costi che le vite degli altri siano un esempio da seguire e quando quell'esempio non ci sembra corretto lo condanniamo non capendo che così stiamo condannando un'intera esistenza ci dichiariamo indignati dai reel sulla prova costume ma fuori da instagram ordiniamo insalata da maggio a settembre in alcuni punti emerge questo tema appunto diciamo di quello che può essere definito poi anche attivismo performativo cioè una certa superficialità o forse ancor peggio una deformazione di certi temi da cioè che avviene per delle logiche che appartengono al mezzo stesso quindi che non e che quindi insomma anche quando si parla di questioni legate ai diritti tutto poi assume quella piega cioè una piega a che è la piega suggerita e anche incentivata dagli algoritmi no e volevo chiederti come è cambiato se è cambiato il tuo rapporto con i social e con i temi legati all'identità quindi al femminismo la questione dei corpi in questi anni perché io credo che ci siano stati dei dei cambiamenti anche proprio nella nel modo di veicolare i temi sui social allora sì per me è cambiato tanto dunque io non faccio un grandissimo utilizzo di social mi piacciono moltissimo poi non mi applico molto sui miei i miei profili personali perché questi possano crescere purtroppo tra l'altro perché lo faccio di lavoro per altri e poi quando mi trovo per me stessa mi perdo quando però ho iniziato a scrivere di temi riguardanti il femminile in qualche modo riguardanti dei temi che in balena arrivano perché tanto insomma ero sempre lì con la testa a un certo punto ho dovuto fermarmi proprio per quello che intorno stava accadendo perché ho temuto di far parte di una cosa che non sopportavo che è quella che dico lì cioè di prendere casi persone situazioni vite e farle di tutta una teoria e io stavo diventando così cioè picchiano una donna in Bangladesh danno della balena a una ragazza in Irlanda praticano omofobia in un altro stato e tu ci fai un articolo sopra lo metti sui social e la gente ti adora perché come fa a non adorarti stai dicendo di non dire cose terribili voglio dire se non ti adora vota Meloni e quindi è meglio che stia lontano e però dov'è la riflessione lì mi chiedevo cioè che cosa sto facendo e quindi il mio rapporto è cambiato nel senso che ho smesso cioè per me i social sono sempre stati un tra cioè o il mio cane che troverete ovunque comunque perché sono ossessionata dal cane come dal padre questi maschi mi rovinano lì oppure un veicolo per un mezzo per veicolare quello che scrivo insomma questi sono gli utilizzi che ne faccio per scrivere Balena ho analizzato tantissimi profili che trattavano i temi dei corpi non conformi o più che altro dei corpi grassi non tutto il tema del corpo non conforme e a parte che non sono riuscita a trovare niente che a me personalmente convinceva però ripeto a me personalmente quindi non di non convincente ma a me personalmente perché ho sempre trovato che ci fosse una disparità totale tra realmente il messaggio che si voleva mandare alle persone cioè non soffrire sei bella così come sei amati e la volontà di apparire per via di questo messaggio che di per sé non è sbagliata la volontà di apparire figurati io sono egocentrica viva la volontà di apparire però farla attraverso quel messaggio c'era qualcosa che mi sedeva come quando entri in una stanza e dici c'è un'atmosfera strana e dici sono le energie io dico sempre questa cosa sono le energie però senti che c'è qualcosa di strano io patisco molto la narrazione dei corpi su Instagram perché da una parte io non vorrei che nessuno venisse apostrofato per il corpo che abita perché vabbè non stiamo neanche a ripeterlo non si deve fare insomma non stiamo qua a dircelo dall'altra però non voglio neanche sentirmi sbagliata io se io ad esempio non amo il mio corpo cioè voglio avere quella stessa libertà di dirlo invece per tanto tempo mi sono sentita in errore di pensare che il mio corpo fosse sbagliato mi è capitato di avere delle discussioni poi live con delle persone che si occupano di questo di dire io è da quando ho sette anni che non indosso una minigonna perché perché le mie cosce mi fanno orrore non le posso guardare certo che non sono felice a dirlo dopodiché sai che c'è nella vita ci sono un sacco di cose da fare che indossano la minigonna non è che piango tutte le sere e sentirmi dire beh però sbagli non sei abbastanza coraggiosa ed è la stessa cosa che accade cioè che accade in certi profili su Instagram ripeto in certi non in tutti perché so che c'è una pluralità di roba e quindi io credo che il social debba essere l'inizio di un lavoro anche quello dell'attivismo cioè è un punto di partenza invece solamente mi sembra il punto di fine o il punto di tutto cioè lì inizia lì continua e lì si esaurisce ma in realtà deve essere un megafono però una cosa più grande come ad esempio può essere un libro cioè si scrive un libro tu lo sai bene si scrive un libro riguardo a un corpo e poi è chiaro che Instagram diventa quel mezzo ma non si può esaurire tutto lì è impossibile lì dentro far sentire a proprio agio e descrivere la pluralità di corpi e di eccezioni che ci sono per questo le storie che dicevamo prima Netflix i libri tutto quello che ci volete mettere in mezzo serve molto di più perché lì è tutto ampliato io in realtà questo pezzo che hai letto è uno di quelli che mi faceva più paura nel libro che ho avuto che ho discusso tanto anche con in casa editrice però è sinceramente quello che penso cioè non non credo che si possa in un reel far sentire meglio una persona per quanto uno sotto si scriva grazie ed è capitato anche a me che lo dicessero ma come è possibile magari per quel momento grazie grazie stavo dicendo però non si esaurisce lì no? poi il lavoro continua e continua se sei un autore col prossimo libro che scrivi se avrai un podcast quello che voglio se sei un attivista col fatto che scendi in piazza invece se tutto resta lì secondo me abbiamo un grande problema soprattutto per le nuove generazioni che da una parte si vedono rappresentate come io non mi vedevo quindi figata ok dall'altra però pensano che ok ho visto il reel sono a posto e invece il lavoro è tanto ed è molto sfaccettato bene questa è la mia ultima domanda poi non so se Jonathan o Neonald questa ero zitta per sempre per sempre no ti prego diventerò un sarcofago direttamente no no hai anche tu altri libri da scrivere quindi e no volevo sempre prestare su questo orizzonte più sociologico eccetera e volevo sapere appunto il tuo rapporto sul femminismo con il femminismo mainstream prima abbiamo parlato della moda nel senso che noi siamo degli scrittori a cui piace la moda e spesso questa cosa diciamo in maniera molto tacita in ambito culturale però è soggetta a un jacuzzi no anche tu mi dicevi insomma certi circoli femministi ti dicono insomma perché ti metti gli orecchini perché ci tieni e io mi chiedo cavolo ma perché siamo ancora a questo punto e appunto tu mi dicevi che con Chiara tagliaferi vi avevi affrontato questo tema che anche lei ne fa un po' una battaglia che sembra un aspetto superficiale però secondo me nella sua superficialità tocca delle corde che in realtà sono molto sovversive no? si può dire? assolutamente beh intanto appunto siamo tre che amano la moda quindi che fanno molta bella figura su un palco fare poco vestiti bene di questi tempi no assolutamente sì cioè a me è capitato una delle delle prime no delle prime no però un'autrice femminista convinta di cui non c'è nessun bisogno di fare il nome a quale ho detto di Balena che avrei pubblicato un libro io all'inizio non lo dicevo a nessuno perché pensavo fosse un segreto finché poi il mio marito mi ha detto Giulia comunque puoi dirlo alla gente cioè basta io pensavo fosse un segreto e comunque lo dico a lei lei molto più grande di me lo dico anche con estremo orgoglio e lei mi risponde e no vabbè certo perché questo è il periodo in cui pubblicano i bei faccini così nei video vieni carina vai sul suo Instagram appunto ed è tutto un tripudio di no e possiamo fare quello che vogliamo le magliette girl power e dici ok cosa c'è di diverso tra la vita reale e quella roba lì questo è un caso non sono sicuramente tutti così credo che però il femminismo sia un affare super complicato perché il post è facile tutti i giorni essere femminista è un lavoro cioè insomma il personale è politico insomma come sappiamo e quindi diventa molto difficile applicare alla vita reale quelle cose che poi scrivi o metti nei post il mio rapporto col femminismo contemporaneo no mainstream è pessimo lo detesto quello mainstream perché non credo che scrivere su una maglia girl power significhino veramente dare il potere io seguo il tatuaggio girl power non è vero però l'ho fatto dopo il concerto delle spice girl perché è il nome dell'orona allora sì ce l'hai vabbè ma perché le spice dicevano che il paura è un altro modo ah sì è vero no è che non capisco perché devi bere il caffè in una tazza in cui c'è scritto potere alle donne quando in realtà potresti mettere quei 10 euro e 90 in un centro antiviolenza cioè adesso questa è retorica me ne rendo conto però è bello che una cosa diventi mainstream figurati che balena diventi mainstream che lo compri non in autogrill tutti sempre che lo legga chiunque però poi è difficile mantenere certe cose quando quella roba diventa mainstream e non di nuovo come dicevamo prima e non confondersi con quei valori che stanno portando avanti e che devono essere parte di te e che possono anche non essere parte di te cioè questa cosa per cui tutte e tutti dobbiamo essere femministi o femministe non è vera o meglio dovremmo esserlo ma potremmo anche non parlarne cioè una persona può anche non andare in giro a dire difendo i diritti delle minoranze ed essere una persona vera lo stesso cioè magari lo fa però a casa sua nel suo privato diciamo che insomma visto le recenti elezioni forse adesso forse è necessario mettere dei cartelli andare in giro con dei cartelli però in un mondo civilizzato girl power a Giorgia Meloni della regale lei a lei si ma capisci se lei bevesse il caffè nella tazzina girl power no comunque sarebbe oproprioso qualsiasi cosa le faccia è oproprioso quindi non ho un ottimo rapporto dopodiché non voglio tendere a esagerare tutto c'è molta roba che mi piace c'è molta roba da cui anche ho imparato e anche molta roba a cui devo tanto e anche autrici a cui io devo molto scusami i tuoi role models femminili la domanda da proprio giornale da magazine allora vabbè Anierno Lady Gaga Joan Didion un'altra viva ah viva perché io ho questa passione per i morti e Lady Gaga l'ho già detta ok è viva lei sì è una prova contrario sì sai che eh no Sheila Jackson è morta sto facendo fatica un'autrice viva l'ho detta ah no sono tutte morte c'è il sì Lady Gaga c'è tipo no Anierno è viva Anierno è viva è viva oddio sì scusate che da quando ha vinto il Nobel mi sembra morta capito no che quando uno vince un premio sembra già che tipo tipo la la legge di Agno Morricone che sembra già che no vabbè poi adesso sembro pessima cioè Teresa Cebatti è un'autrice che io amo e adoro dichiara Valeria un'immensa stima quindi c'è tantissima poi se mi dici role model ti rispondo John Didion sì assolutamente un'immensa stima